Dopo l'ufficialità dello spostamento del mercato ambulante del martedì dal centro storico al Viale Roma a partire da settembre, il gruppo consigliare PD e la segretaria Claudia Giuliani sono tornati ad esprimere il loro disappunto per una scelta fatta senza ascoltare ambulanti e cittadini. Nonostante una raccolta firme e un precedente che aveva mostrato le criticità del posizionamento del mercato sul Viale, sia dal punto di vista economico, con le licenze passate da 260 a 170, che di viabilità per i disagi creati ai residenti, l'amministrazione comunale è andata avanti con la sua decisione. Da tutto ciò emerge un dato politico, scrivono dalla segreteria del PD. Il sindaco ha preferito adottare un atto di giunta con l'attenuante della sperimentazione, anziché portare l'argomento in consiglio comunale apportando la modifica al piano del commercio su area pubblica come atto dovuto. Il PD ha inoltre anticipato che nelle prossime settimane organizzerà un incontro pubblico con cittadini, commercianti, rappresentanti delle categorie per approfondire tale argomento.